Buono, forte, dove sono qua? Forte Carle Tu qua a sinistra è il verena e quello davanti? Sì Deciso, deciso, deciso che fosse a piedi Ho deciso che possiamo farla a piedi Vemmo No, domiado Questa è forte Carle Adesso se arriviamo fino in fondo si vede proprio tra i forti Quello, non mi ricordo se sia qui o se si è fiumanti Spitz Vecana Quello forse c'è il Verena che diceva Marco Quella è massacrada